Per la prima volta un tuo gol non ha coinciso con il successo in questo campionato, una partita nata male, quella di Pescara. Abbiamo preso per l'ennesima volta quattro gole, fanno male, però avviamo di fronte una grande squadra, però non siamo stati il carpi di sempre. Per quanto riguarda il futuro, il calendario propone un Varese che è avversario tosto e con un nuovo allenatore in panchina. Il Varese è una delle 7-8 squadre più forti del campionato, con un ottimo organico, un bravo mister, sarà una bella partita. Poi giochiamo in casa e noi abbiamo bisogno di tre punti assolutamente, dobbiamo andare al massimo. La situazione di classifica è un po' complicata dopo le ultime due sconfitte. Sì, purtroppo la Serie B è così, perdi due partite, sei giù, ne vinci due, sei medio alto, però non dobbiamo guardarla perché ancora è lungo. Dobbiamo solo cercare di fare più punti possibili e poi pensare a quello che verrà. La partita da expert è qualche emozione particolare? Un po' sì, perché a Varese sono stati sei mesi, sono stato bene, abbiamo fatto i play-off, quindi un po' la sentirò. Non mi sento proprio un expert perché ho fatto solo sei mesi, quindi io penso a vincere e basta.